Allora, cominciamo dal premio. La Lega ti ha dato un bel premio alla carriera, per alcuni mi sembra di capire che la carriera la vuoi continuare. Sì, il problema alla carriera è comunque una grande soddisfazione. Io sì, io voglio continuare. Scherzando ho detto, sai, quando ricevi questi premi significa che è fatta, che è finita. Però vorrei continuare, vorrei continuare. Mi sento ancora bene, mi diverto. Poi queste vittorie danno ancora più gioia, più voglia. Il terzo trofeo della stagione, ancora una volta, avete dimostrato di saper soffrire, sia ieri che oggi. Sì, questa è stata la chiave, perché è stata tosta, è stata tosta ieri e oggi. Siamo andati sotto, abbiamo sofferto, ma siamo rimasti lì, uniti, nonostante le difficoltà. E credo che questa sia stata la chiave sia della semifinale che della finale. Avete poche alternative in questo momento, però avete trovato energie, insomma, in quelli che c'erano. Sì, sì, ma finalmente, sai, Roberto Russo sta allenando a pieno, Leo sta tornando. Insomma, sono state, fino ad adesso, assenze pesanti. Ormai, ecco, Roby è a parte del gruppo al 100%, Leo quasi. Però ecco, ci serviranno tutti per il finale di stagione che sarà, come questa Final Four ha dimostrato, molto molto impegnativo. Grazie.